Attrice, doppiatrice e speaker, socio ad app, è la voce di spot pubblicitari, documentari, film, telefilm, cartoni animati, videogame, audiovisivi promozionali e didattici, corsi di lingue e favole per bambini. È stata la speaker ufficiale del canale satellitare Cartoon Network, dal 2006 al 2010, attualmente è la speaker ufficiale canale televisivo Cartonito dal 2011. A volte è anche la speaker del canale televisivo Boeing, con il quale presenta gli show dedicati alle femmine. Diplomata all'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Collabora da anni come attrice nella realizzazione di spettacoli teatrali e letture di poesia e di prosa con alcune associazioni teatrali e culturali. È laureata in lettere moderne ed è insegnante di dizione e recitazione.